Nel corso del 2019, gli italiani dovranno mettere in conto una stangata mediamente pari a 914 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio sui incrementi di spesa previsti per il nuovo anno sul fronte prezzi e tariffe. Il nuovo anno, spiega quindi l'associazione, si aprirà con gli aumenti delle tariffe autostradali decisi dal governo, che avranno un effetto diretto per gli utenti stimabile in più 45 euro a nucleo familiare. Mentre le multe stradali dovrebbero salire del più 2,2%, con un aggravio di spesa di più 6 euro a famiglia. Se il tasso di inflazione si manterrà ai livelli attuali, solo per i prezzi dei beni al dettaglio occorrerà mettere in conto una maggiore spesa pari a più 211 euro a nucleo. Mentre per l'alimentazione spenderemo 185 euro in più rispetto al 2018. Discorso a parte, merita il comparto energetico e dei trasporti. Gli ultimi mesi del 2018 sono stati caratterizzati dal crollo del petrolio, che avrà effetti benefici sulle tariffe luce e gas per il primo trimestre del 2019. Ma la festa per i consumatori durerà poco. Gli analisti, ricorda il Codacons, concordano su una rapida scesa delle quotazioni petrolifere nel corso del prossimo anno, con effetti diretti sia sulle bollette energetiche, che cresceranno mediamente di 62 euro a famiglia, sia sui fornimenti di carburante, più 149 euro a nucleo. Ripercussioni anche per i trasporti, come aerei, treni, taxi, mezzi pubblici, traghetti, per più 67 euro a famiglia. Il 2019, inoltre, segnerà il ritorno degli aumenti per le tariffe RC auto, con i prezzi delle polizze che già negli ultimi mesi del 2018 hanno registrato leggeri incrementi, penalizzati gli automobilisti. La stangata media si aggirerà quindi attorno ai 914 euro a famiglia, ma potrebbe superare quota 3.400 euro, nel caso in cui un nucleo, nel corso del 2019, acquisti un'automobile nuova, a causa dell'ecotassa varata dal governo, che colpirà pesantemente le vetture, con emissioni dai 161 grammi chilometri di CO2 in su. La categoria più tartassata del 2019 sarà senza dubbio quella degli automobilisti, che oltre alla citata ecotassa dovrà mettere in conto rincari per pedaggi, multe e carburanti, conclude l'associazione.